Ciao ragazzi, bentornati, questo è il secondo episodio delle interviste dei Cicless, boh questa me la sono inventata adesso, il nuovo format inclusivo, no siete benvenuti sul nostro podcast se non siete iscritti iscrivetevi, mettete like, se non ci seguite su Instagram andate, ho capito non glielo diciamo mai, andate a seguirci su icicless.podcast dove metteremo tutte le nuove informazioni, vi terremo aggiornati giorno per giorno, vero Davide? Assolutamente, però tutta questa parte che potete prendere e schippare praticamente facendo così, serve solamente introdurre un nuovo ospite, oggi siamo con Sara. Piacere Sara, piacere Sara. Grazie per avermi invitato intanto. Prima figurati, grazie a te di essere venuta anche perché qua tra ospiti che riusciamo a raccimolare in giro, ospiti che ci scrivono, siamo riusciti a collezionare un bel pantheon di studenti che vengono insomma al servizio della casa. Senti un po' Sara, tu stai finendo, anzi hai finito, un percorso. Che cosa hai studiato? Allora io ho studiato scienze della comunicazione a Torino, a Palazzo Nuovo e adesso sono praticamente alla fine, mi devono solamente appunto proclamare, nelle prossime settimane vedremo quando, esattamente. Però sì, ho finito. Come mai hai scelto comunicazione? Te lo chiedo da due studenti di comunicazione, quindi ci capiamo. Bella domanda, bella bella domanda. E allora la mia convinzione da sempre, da quando io avevo dodici anni, era quello di fare psicologia. Ok, ok. Partiamo malissimo. Esatto, ho capito. Solamente che poi quando mi sono ritrovata davvero a scegliere la facoltà, ho pensato che forse psicologia non era quella che mi rappresentava di più. E arrivato a questo punto, una volta scartata la mia unica certezza, non sapevo esattamente cosa fare. Sapevo soltanto che mi piacevano tantissimo le materie umanistiche. Ok. E nulla. Tra le varie scelte, tra le varie facoltà umanistiche, c'era scienze della comunicazione, che ho pensato potesse essere un ottimo compromesso tra facoltà umanistiche e quelle un po' più tecniche, come economia, ma anche appunto studiare i social, vuoi non vuoi, è comunque una parte tecnica delle materie umanistiche. E quindi ho pensato che questa potesse essere una via di mezzo che mi portasse a studiare qualcosa che mi piaceva e qualcosa che mi avrebbe portato poi a uno sbocco lavorativo. Però appunto in questi tre anni io non me ne sono mai pentita della mia scelta perché tutti i corsi che ho frequentato, quelli più o meno belli, comunque di base mi sono sempre piaciuti tutti e ho incontrato persone molto interessanti, professori molto bravi e nulla. Diciamo che è stato questo. Quindi tu hai effettivamente scelto quello che ti interessava rispetto a quello che poteva funzionare. Tipo se io ti dicessi, guarda qua c'è una scelta e questa ti piacerà molto. E questi invece sono soldi. Però fare qualcosa che ti rende infelice tutta la vita, tu quale scegli? Intanto la vita non è così o bianco e nero, c'è sempre la via di mezzo. Io ho scelto la via di mezzo praticamente. Bello. Io invece ho scelto proprio i soldi. Stavo andato a parte. Quello che volevo introdurre su questo episodio in particolare è che sia io che Marco che te facciamo Scienze della Comunicazione. Questo è un presupposto che andava chiarito. E volevo un attimo capire quali sono stati i corsi che tu hai fatto che ti sono piaciuti di più. Se te ne è rimasto impresso qualcuno, se c'è stato qualcuno che ti ha dato di più rispetto ad altri. Ok, allora intanto ne parlavamo anche prima il corso di Bruno Surace. Cinema e comunicazione audiovisiva. Fantastico, bellissimo. A Torino, ricordiamolo. A Torino. È importante, sì. Fantastico, bravissimo professore, eccetera, eccetera. Un altro corso molto importante che mi è piaciuto tanto è stato Teoria e tecnica dei media, dove appunto abbiamo analizzato vari social, Instagram ma anche TikTok e c'era un minimo di pratica dove semplicemente si lavorava in gruppo e bisognava diciamo creare dei post su Instagram, su un profilo di gruppo, sì, dove si appunto postava l'argomento della lezione. Quindi tu praticamente facevi dei post con il riassunto della lezione per così, per aiutare gli altri. Per interaggirti. Esatto. E un altro che in questo momento mi sfugge, se non sbaglio è estetica dell'immagine. Mamma mia, fortissimo. Paolo Furia? No, no. Serra. Eh, non l'ho avuto. Ma ti faccio una domanda provocatoria. Vai. Scienze della comunicazione, quindi noi tre siamo tre simili nello stesso habitat, è effettivamente considerabile scienze delle merendine? È complicato, nel senso che secondo me scienze della comunicazione non è uguale in tutta Italia. Ok. Io ho sentito tante persone del sud Italia che si sono lamentate di scienze della comunicazione dicendo che spesso non si fa nulla, che spesso assegnano solamente dei libri da leggere, magari di Umberto Eco o piuttosto di altri. E così tu non impari a comunicare. Cioè, sì, studi, ma non si fa così. L'Università di Torino è un'università valida come scienze della comunicazione. Infatti è un consiglio che voglio dare alle persone che vogliono studiare scienze della comunicazione e che devono informarsi tanto sull'università, perché cambia tantissimo in base a dove vai. Se vai, per esempio, a Milano, la Yulm, fantastica. Cioè, ci sono persone che una volta laureate lì si sono messe a lavorare per Facebook. Quindi, sì. Perché purtroppo è così. In base a dove vai, in base a dove nasci, in base a dove studi, sei più o meno avvantaggiato. Quindi, sì, è un'università scienze delle merendine, diciamo, che può essere valida come paragone in alcune università. In quella di Torino è uno SNI, perché purtroppo, secondo me, si è fatta una nomina causata da questa informazione che non è esattamente corretta, che in scienze della comunicazione non si fa niente. Perché è in base al territorio, è in base ai professori, è in base a tantissime cose. Io ho sempre visto scienze della comunicazione come una laurea un po' diversa dalle altre perché punta tanto sui contenuti che una persona può apprendere e fare suoi. Più che come una laurea che ti dona delle vere e proprie competenze. Anzi, è una laurea che ti propone delle competenze che sei tu a dover cercare, sviscerare e poi approfondire. Io non voglio criticare chi copia, o non voglio neanche puntare il dito verso chi prende 18, ovviamente. Io voglio solamente denunciare il fatto che non bisogna prendere sotto gamba gli esami, perché è vero che magari forse le materie umanistiche sono forse un po' più semplici di quelle scientifiche, ammettiamo sia così, va bene. Però tu non puoi prenderle sotto gamba, perché le materie umanistiche, secondo me, sotto un certo punto di vista, sono molto più difficili da applicare nella vita. Sono molto più difficili perché l'essere umano è complesso e quindi andare a produrre qualcosa per l'essere umano è molto complesso e quindi è difficile da applicare scienze della comunicazione. Anche molto variabile, no? Come hai detto tu, l'essere umano cambia da soggetto a soggetto, quindi anche solo un qualcosa tipo la psicologia, per quanto ci siano delle basi molto scientifiche, poi devi essere anche bravo tu, come dici te, con la tua sensibilità, la tua capabilità. Una certa empatia, una certa sensibilità che vanno capite, vanno studiate, vanno applicate. Non è per niente semplice. Tantissimi brand famosissimi hanno fatto questi errori. pensiamo a Google Glasses che sono usciti tantissimi anni fa, non hanno avuto per niente successo. Questo perché? Perché la società non era pronta ad apprendere quel tipo di tecnologia. C'è stato proprio un errore di valutazione della società contemporanea. Adesso noi stiamo iniziando a parlare di queste nuove tecnologie, Google Glasses, macchine che si guidano da sole, ma già esistono da tantissimo tempo. Quindi bisogna proprio capire quando comunicare, come comunicare. e tu non puoi basarti su prendere 18, ciao. No, cioè, sì, lo puoi fare, però poi ti prendi quello che è, ovvero niente, perché nessuno vuole un comunicatore che non sa come comunicare. Io aggiungerei anche un fatto al tuo commento, che è ottimo, che secondo me ha poco senso anche puntare esclusivamente al voto, è vero, tu salti il passaggio di essere quello che va lì giusto per andarci, però ti vai veramente di nuovo a reinserire nella mentalità delle superiori, cioè studi la materia per passare l'esame. Poi tra tre mesi sono zero, ho rasato tutto quanto a zero, non mi ricordo più niente. La nostra professoressa di fisica, una volta, si è uscita con una frase stupenda, ovviamente che riguardava il suo ambito, ed era dalla laurea di fisica escono due tipologie di persone, i laureati in fisica e i fisici. E questa cosa per me è stata veramente... Sì, boom. ...mind-blowing, incredibile. Perché è vero, perché soprattutto in una laurea come la nostra, che è piena di concorrenza, basta solamente pensare che siamo tantissimi, qua a Torino, per un'annata, pensa farne ogni anno una di 200 studenti, più tutto il territorio italiano, e uscire solamente con un voto, senza aver applicato veramente quello che hai imparato, che ti ha dato l'opportunità di imparare. Quindi oltre all'impegno che bisogna mettere ovviamente per dimostrare poi con il pezzo di carta che hai in mano che comunque sei stato bravo, devi dimostrare ovviamente quei fatti, quando si parla di competenze. Dove vuoi arrivare, Davide? No, che nel senso, se io ho la media dei 20, cioè, però sono bravo a parlare, prendetemi aziende, per favore. Ultima provocazione, in realtà il discorso, spero poi venga fuori un ragionamento interessante, il fatto che le altre facoltà deridino la facoltà di scienze della comunicazione, e quindi in questo caso te, ma non te come persona, ma te come facente parte di un nucleo deriso, ti ha mai pesato? Ti ha mai pesato questa cosa qua, oppure no? Un po' sì. Un po' sì, perché mi sento come se i voti che prendo non siano validi quanto gli altri, mi sento come se quello che studio non è valido quanto quello che studiano gli altri. Però io so che in realtà non è così. Però vuoi o non vuoi quando una persona mi si avvicina e mi dice cosa studi? Io dico scienze della comunicazione. Ah, ma me la consigli, perché mi hanno detto che se vuoi una laurea facile dovrei fare questa. Io dico, cosa? No, non funziona esattamente così. Sì, e purtroppo questa nomina si è creata per una serie di fattori che già abbiamo detto. Un po' mi dispiace, un po' mi dispiace perché io credo a quello che studio, credo nel potere della comunicazione, che ha un potere immenso. Ed è forse, scusami se ti interrompo, ed è forse l'unica, l'unica non lo so, ma tra le materie che in realtà influenza tutti i campi. Cioè in tutti i campi c'è la comunicazione. Da ingegneria al medico, a fare il medico, cioè dall'ingegnere al medico. Esatto. La comunicazione c'è sempre. Sempre, certo. Ma pensiamo soltanto che il giornalismo è definito come quarto potere. Thorson Wells, un grande, mio padre. Quindi è importantissimo. Se tu vuoi fare un brand di farmaci, di scarpe, qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa, anche il cibo richiede una buona comunicazione. Puoi avere il prodotto migliore del mondo, con le qualità migliori del mondo, ma se non è comunicato bene, non funziona. E se qualcuno prende la tua idea, te la ruba e la comunica bene, poi è lui l'inventore di quell'idea. Certo. Nel senso, è così. La comunicazione è troppo importante e la gente non lo capisce, purtroppo. Non se ne rende conto. Pensa che... Ma sì, comunicazione. Cosa vuoi fare? L'influencer? Vuoi fare i balletti su TikTok? Che poi anche lì è sempre riduttivo. Il fatto che comunque magari uno possa patire, diciamo, il riso da parte degli altri e l'essere deriso per una facoltà di questo tipo è pressoché stupido. Più che altro perché uno, le facoltà ne esistono tante per un motivo. Perché se tu vuoi fare lo psicologo, vuoi fare il medico, vuoi fare... Ci sono più ambiti. E la seconda cosa, in realtà, è come dici tu, ovvero come l'affronti tu l'università. Perché se l'affronti da studente X, sicuramente vale quello che vale. Esatto. Se l'affronti come dici tu invece assume un senso molto grande. Tu, Davide, hai mai patito o ti hanno mai deriso per questa cosa di comunicazione? Deriso anche leggermente, no? Per forza... Allora, se ti devo dire la verità, non mi hanno mai deriso... No, scherzo, mi ha deriso prima Francesca. È vero, l'ho scritto di prima. L'ho scritto di prima, la prima. Un ingegnere, tra l'altro. Un ingegnere ci ha deriso. Però, cavolata a parte, in realtà non ho mai patito questa cosa. Ma perché? Perché io ho scelto liberamente di scrivermi a questa facoltà. Faccio un breve scursus veramente piccolo sul perché effettivamente non l'ho patita. Io ho fatto un anno di ingegneria di cinema e comunicazione e avevo un sacco di progetti per la mente che andavano fuori da quel mondo. Il tempo però impiegato per quantomeno sopravvivere in quell'ambito era veramente esorbitante. Non potevo concentrarmi quindi sulle cose che mi interessavano. Io studiavo per conto mio libri di comunicazione che magari venivano anche resi disponibili come materiale di studio qua a Scienza della Comunicazione senza che io lo sapessi. Io nel mio privato stavo già facendo comunicazione e volevo approfondire di più questa scienza senza averla mai percepita come vera scienza perché avevo ancora quella forma mentis da dire beh, quella roba è semplice non è sicuramente come analisi 1. La verità è che poi ho capito che stavo facendo degli sforzi inutili a remare contro la mia natura e ovviamente questo poi si è diciamo si è risolto con il mio totale burnout all'interno di quella di quell'università e mi ha fatto proprio dire basta ho 20 anni quasi 20 anni ho intenzione di usare i prossimi migliori anni della mia vita per impegnare per qualcosa di cui non mi importa realmente perché a me non importava diventare ingegnero prendere una laurea era giustamente era giustamente incanalato in quei binari che ti danno fin da quando sei piccolo e ti dicono vedi prima c'è una scuola poi ci sono i superiori e poi c'è l'università io ero fermo in quel binario lì sono riuscito a capire un attimo qualcosa grazie a un evento che mi sembra avessi detto in uno dei primi episodi del podcast su Spotify andate a recuperarlo che è stato effettivamente il rendermi conto uno di quel che stavo facendo perché c'è stata una ragazza che era vicino a me non tanto quanto persona però la vedevo spesso io frequentavo l'oratorio anche lei e questa ragazza giovanissima finisce di laurearsi muore in un incidente e per quanto sia tragica però mi ha fatto capire che effettivamente hai una vita che l'unica cosa certa vera è la morte e avevo anche dei casi in famiglia in cui c'erano dei percorsi che sembravano stabiliti tipo mio papà faceva l'infermiere generale l'anno in cui doveva laurearsi quella facoltà è stata annichilita dallo Stato hanno detto no questa roba non esiste più ma in che senso hanno detto vabbè abbiamo annullato questa facoltà e dall'altra parte avevo un caso specifico che era mia madre per cui nutro un profondo rispetto che invece non aveva niente è partita dal nulla dal Perù e è voluta venire qua in Italia senza garanzie e ce l'ha fatta è riuscita avere una famiglia come voleva è riuscita anche adesso lavorare all'ospedale quindi è riuscita veramente a inserirsi quindi io avevo nella mia famiglia un vero caso del se rischi ce la fai e percorsi sicuri non esistono e entrambi questi casi mi hanno aiutato a dire non mi importa se tutti quanti dicono che questa è la facoltà delle merendine io ho la certezza che se faccio questo farò bene farò qualcosa io non avevo ancora l'idea di che avrei incontrato gente come Marco che avremmo iniziato un progetto come questo non avevo sicurezze non avevo certezze anche quando abbiamo iniziato a registrare non sapevamo se sarebbe funzionato come forma se alle persone fosse veramente interessato e per adesso sta andando bene quindi io no non ho mai patito veramente il giudizio degli altri sotto questo aspetto però non è per dire che sono meglio o peggio di qualcun altro vuol dire solamente che le mie esperienze hanno un tipo diverso di fondamenta e infatti io voglio chiederti invece tu l'hai mai patita questa cosa? io un pochino sì ti dico soprattutto il primo anno quindi tra virgolette ci può anche stare nel senso che sei agli inizi non tanto perché non fossi sicuro quanto più perché so quanto quanto valgo e quello che ho da dare e mi dava fastidio che le persone soprattutto magari persone vicino a me non riuscissero a vederlo e questa cosa un po' mi metteva in difficoltà sì lo stesso io praticamente ti dispiace il fatto che tu credi tanto a una cosa sai che è importante sai quanto valore ha però gli altri non lo vedono è una cosa che dispiace non è che uno patisce così tanto e tipo no piango no però uno dispiace almeno a me dispiace quindi sì sono d'accordo con te ho battito ho battito parecchio però adesso alla faccia di tutti quelli che mi hanno detto che scienze delle merendine è inutile sono molto contento di aver tirato su questa baracca con te e di avere ospiti persone anche come Sara che vengono a raccontarci le proprie cose allora perché abbiamo organizzato tutta quanta questa puntata oltre per raccontare un attimo il mondo di scienze della comunicazione perché effettivamente ci siamo resi conto che siamo due studenti di scienza e comunicazione però non abbiamo mai parlato con qualcuno di scienza e comunicazione abbiamo pensato di farlo con te perché tu hai finito cioè tu hai concluso il percorso standard abbiamo capito perché ti sei voluta iscrivere cosa ne pensi del tutto quello che è stato diciamo il tuo percorso e adesso che stai per prendere la laurea sì arriva il momento di dire che succede adesso continuo a studiare vado a lavorare spiegaci un po' cosa hai trovato una volta finita questa bella esperienza sentiamo sono curiosissimo allora io mi sono iscritta in un'altra scuola che è un ITS ah ci parli un po' quello di Torino esatto molto molto valido secondo me tra l'altro piccolo excursus avremmo un episodio dedicato all'ITS con due ragazzi grande quindi adesso si mangeranno a vicenda sì perché si odiano parecchio sono tipo le regioni è presente i paesi in Toscana che sono tutti limitrofi però si odiano per qualche motivo per cultura vabbè ovvio sì e quindi è un po' così è un po' così lì dentro ci svegli un attimo che cos'è l'ITS e soprattutto quale hai scelto e perché l'hai scelto l'ITS diciamo che è un istituto tecnico superiore e no non sono le scuole superiori no non è l'ITIS è proprio un istituto tecnico è quello che si fa dopo essersi diplomati non ci vuole una laurea di solito appunto quando ti diplomi hai due strade o l'ITS o la laurea triennale allora intanto è un percorso di due anni e ti rilascia appunto un diploma di tecnico superiore e ha diciamo ti rilascia un quinto livello negli standard europei adesso io non ti so dire esattamente forse quelli dell'ITS ti sanno dire di più però diciamo che per capirlo un po' meglio diciamo che la laurea ti rilascia un sesto livello di istruzione a livello europeo mentre l'ITS ti lascia un quinto livello ok e un diploma quanto lascia? quarto livello ok tu cos'è che hai scelto? io ho scelto il corso di Digital Strategist che appunto va a trattare tutto quello che riguarda le strategie comunicative dal montaggio video Photoshop la SEO l'advertising tutto tutto e io ho visto il loro programma tratta anche l'intelligenza artificiale quindi super aggiornati le ultime cose e tra l'altro so che gli stage sono fighissimi lì cioè ti lanciano praticamente quasi nel mondo del lavoro sì praticamente ti ti lanciano direttamente nel mondo del lavoro ti prendono dalla sedia e ti lanciano contro il datore di lavoro ma adesso andrei all'RK ci sono tipo 800 ore di tirocinio è molto se non sbaglio poi io adesso io non ho la scheda davanti certo 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 e poi appunto tendenzialmente dove fai tirocinio spesso ti assumono poi adesso io ancora devo iniziare questa scuola quindi bisogna un attimo vedere poi magari più avanti vi dirò non lo so scusami ma adesso che mi viene in mente questa cosa qua il fatto che tu abbia cambiato tra virgolette percorso per quanto sia fine sia semplicemente un'altra un'altra scuola un altro no no tu bevi è tranquillo non ti preoccupare la marca la blurra il montatore tanto questa qua va blurrata tutta va blurrata tutta guarda cito davide il compagno qua a fianco che dice sempre se potessi dare un solo consiglio solo uno a uno studente di scienze della comunicazione che magari sta per iniziare il corso di scienze della comunicazione oppure si trova a metà tipo secondo anno o ancora all'inizio del terzo come in questo caso io e davide qual è il consiglio da persona con esperienza come la tua fai pratica riguardo qualsiasi cosa che ti interessa nell'ambito della comunicazione ma fai pratica anche da solo perché in realtà poi se hai delle competenze che hai imparato da solo lo puoi scrivere nel curriculum e ti prendono in considerazione ecco però ecco pratica se invece insieme alla laurea associ la pratica la figura più richiesta del mondo del lavoro diventi bomba più degli ingegneri e dei medici raga chi lavora nell'ICT si si godo godo si guadagnano molto di più raga non sapevo io che dovevo fare giunzione delle merendine allora ringraziamo Sara per essere passata dei cicli adesso vi facciamo un grande applauso anche qua abbiamo anche la soundboard fammela fare la call to action ma l'hai già fatta vabbè ma fammela fare mi interrompi ogni episodio allora lasciate like lasciate un commento iscrivetevi al canale youtube se non ci seguite su youtube e ci seguite su spotify seguitesi su spotify e ricordatevi di seguirci anche su instagram e di scriverci cosa ne pensate di questo episodio bruno è un grande è vero mema come un pazzo adora marco merrino e anche dario ma secondo me un po' gli somiglia a marco merrino è vero lo dico anche io da quelle vibes e in più gli somiglia e lui conosce tutti i nomi delle cose complicate è proprio una skill tipo la gibijan capito cos'è è quando tu fai il riflesso cioè con un oggetto lucido fa il riflesso della luce contro l'occhio di qualcuno e ha un nome questa cosa e bruno oltre a saperlo ce l'ha insegnato gibijan gibijan ma è italiano spagnolo o francese no 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 è italiano gibijan sì secondo me vi ha percolato no no se l'ha inventato lui anche io ho detto ci ha palesemente preso in giro invece lui è arrivato lì ha fatto la sua bella ricerchina su google e pam gibijan gibijan no ma è un grande proprio è molto bravo in tutto cioè non sa solamente cinema sa tantissime cose quindi cioè io mi chiedo come fanno le altre facoltà a non avere un bruno surace io mi chiedo a nonary mi chiedo 6